La Cattedrale di Santiago è stata l'ultima tappa di Papa Francesco a Cuba. Migliaia di famiglie dell'isola lo hanno accolto scandendo in coro con entusiasmo con il Papa la famiglia Vacrecer e poi come giovani, esta es la famiglia cubana. Il Papa ha sentito il clima accogliente ed ha staccato più volte gli occhi dal discorso preparato per poi concludere i cubani fanno davvero sentire a casa. Ha sottolineato l'importanza dei momenti conviviali in famiglia, soprattutto la cena, nei quali si impara fraternità e solidarietà e che Gesù sceglie per mostrarci l'amore di Dio, per entrare nelle nostre case e aiutarci a scoprire lo spirito vivo e operante nelle nostre cose quotidiane. Purtroppo, aggiunto, in molte culture oggi scarseggiano i momenti in comune per essere uniti, per stare in famiglia. La casa diventa vuota mentre una famiglia unita ci salva dalla frammentazione e dalla massificazione. La rottura dei legami familiari, ha spiegato ancora il Pontefice, porta le persone a trasformarsi in individui isolati, facili da manipolare, perché si perdono le relazioni che ci insegnano ad essere persone. Per questo, ha concluso Papa Francesco, nonostante non esistano famiglie perfette, le famiglie non sono un problema, ma un'opportunità da proteggere e accompagnare. Ed ha concluso l'incontro con una benedizione particolare alle donne incinte, presenti o collegate attraverso i media, alle quali ha chiesto di poggiare una mano sul ventre.